Senza moccoli, eh? Senza moccoli, eh? Aia! Cazzo, non sono testo ad abbraccio. No. Allora... Provo... No, no. Provo senza abbraccio. No. No, guarda. Comunque, mettiamola per sicurezza. Poi ne metterai anche l'altra. E stegui. No, perché... Oggi d'acqua. Oggi d'acqua c'è. No, lo chiamare. Non vorrei capire, no? Non, non, non. No, non, non,... Allora, no. Un ruоло di ragazzi. Un ruolo di ragazzini. Grazie a tutti